A voi ora una celebre melodiana carizia composta da Erdogan Berlin nel 1942 per il film Holiday King. Di essa sono state eseguite in numerevoli versioni, due due mondi e due tre ganna, con il titolo di Bianco Natale, con oltre 30 milioni di copie e il singolo disco grafico pubblico della storia. La mattina dopo aver scritto la canzone, Berlin corse nel suo ufficio e disse alla sua segretaria, prendi la penna, prendi appunti su queste canzoni, ho appena scritto la migliore canzone, ho appena scritto la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto. Si diffuse specialmente tra i soldati americani della seconda guerra mondiale, divenendo il singolo della donna nostalgia per la casa montagna, White Christmas, realavarà la maestro Ponte in una versione 580. Ponte in una versione 580. Ponte in una versione 580. S convys provincia di diventi che con meiro di prima 1. Us riporto di una lettera e le stegioquei Gross corn nel��ime puzziez di uno senza servizio, dei schifo di拜拜 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.